Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è lunedì 11 aprile 2022, iniziamo insieme una nuova settimana che ci porterà alla Pasqua. Una settimana particolare questa per quanto riguarda un po' quello che accade in tutto il mondo e come noi lo interpretiamo dentro di noi. Vediamo subito com'è il santo del giorno, vediamo nella grafica che oggi si festeggia Santa Gemma Galgani, una santa italiana nata a Conigliano di Lucca nel 1878, una santa che conobbe il dolore e lo sopportò con l'aiuto della sua fede. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi è un altro argomento. Voglio parlarvi di una preghiera particolare che si recita durante la settimana santa. Carissimo Figliolo, è una preghiera popolare che in diverse forme si recita in diverse regioni italiane. La preghiera ha un andamento discorsivo tipico delle sacre rappresentazioni di origine medievale. Interessante il nome del pronome voi, segno di rispetto da figlio in padre ma anche di padre in figlio, in questo caso di madre in figlio. C'è un verso per ogni giorno della settimana a partire da ieri, domenica delle palme. Bene, ve ne recito soltanto due. Quello di ieri, carissimo figliolo, dove sarete il giorno della domenica delle palme? Carissima madre, il giorno della domenica delle palme entrerò trio infante in Gerusalemme. Carissimo figlio, dove sarete il giorno del lunedì santo? Carissima madre, il giorno del lunedì santo sarò vestito da cavaliere. Poi le forme ovviamente possono cambiare, possono posticiparsi, anticiparsi rispetto alle diverse località. Ma la preghiera della settimana santa è questa. Poi c'è quella di martedì, mercoledì, gioverdì, fino a sabato e quindi il giorno di Pasqua. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Dopo questa introduzione vediamo che l'inizio della settimana nelle Marche presenta un tempo stabile e solleggiato, con temperature in aumento. Valori massimi che raggiungeranno anche i 17 e 18 gradi. Vedete come il sole punteggia un po' tutta la regione. I venti ispireranno sulle coste da una direzione di sud-est, mentre all'interno con tensioni debole da sud. Le temperature sono però in calo. E veniamo ai giornali. Stamattina il resto del Carlino non ha la solita pagina di Pesaro, ma sintetizza tutte le notizie in un'unica edizione intitolata Marche. E lo vedete qui nel frontespizio, nella pagina iniziale. Noi apriamo per quanto riguarda le notizie locali e vediamo subito una iniziativa che si è svolta ieri in favore dell'Ucraina. L'arte e la bellezza, armi contro la guerra, i colori dell'Ucraina, la mia seconda pelle, parla così Adriana Mariana Ula, 30 anni, modella originaria di Leopoli, protagonista di una performance di body painting al Grà di Pesaro. Una iniziativa questa di solidarietà, la quale sono fiera di partecipare, ha dichiarato. Amici e parenti sono là, innamorati del proprio paese. E la bandiera dell'Ucraina la vedete qui nella fotografia, i colori celeste e giallo che sono stati spruzzati nel corpo di Adriana dalla artista Francesca Guidi. La bandiera dell'Ucraina sulla pelle, il nero del dolore sulle gambe, gli schizzi di sangue nelle braccia. Sono colori significativi questi per attirare l'attenzione. Se ce ne fosse ancora bisogno, per quanto sta accadendo in quel paese drammaticamente penalizzato in tutti gli aspetti della popolazione e in tutti gli aspetti della sua economia. E l'argomento è stato trattato a Fano, ieri, anche dal Vescovo Trasarti. Il Vescovo con il Sindaco hanno partecipato ad una manifestazione, ad una processione che si è svolta tra la Cattedrale e Piazza 20 Settembre. Il Vescovo Trasarti, siamo vicini ai profughi, ma anche tutti i conflitti, anche di tutti i conflitti, quindi non solo per quanto riguarda l'Ucraina. Le conseguenze della guerra le pagano sempre più i poveri, sia da parte che dall'altra, e dobbiamo avere pietà di tutte le vittime. L'ha detto appunto il Vescovo Armando Trasarti, prendendo la parola al termine della marcia contro la guerra, ieri, in Piazza 20 Settembre a Fano, organizzata dalla Diocesi al fianco delle associazioni cittadine dall'Africa Chiama, alla CGL, all'Ampi, al Mondo a Quadretti, a cui sono aggiunti gli esponenti di altri numerosi sodalizi. L'alto prelato ha ricordato la sua gioventù, facendo riferimento a Gandhi e a Martin Luther King. Vediamo come il metro di giudizio, per quanto sta accadendo appunto nell'est dell'Europa, sta cambiando. Non solo ci si posta l'attenzione per quanto riguarda gli ucraini, che stanno soffrendo in modo indicibile per quanto sta accadendo, ma si guarda con un occhio diverso anche gli assalitori. Padre non sanno quello che fanno, ha dichiarato appunto chi è stato crocefisso 2000 anni fa. Crisi energetica alvia le trivelazioni del gas anche nel nostro territorio. In versione dirotta sulle piattaforme pesaresi sono otto quelle attive di costa tra Gabice e Fano e nei prossimi mesi verranno aumentati i volumi della captazione. Ebbene, quando si parlava di riattivare oppure di istituire una nuova piattaforma in mare, ebbene, coloro che tenevano la cura e alla tutela dell'ambiente erano insorti. Ora veramente siamo alla frutta e se ci viene privato il gas russo dobbiamo cercarlo nei territori di casa nostra e quindi si riattivano queste piattaforme. I punti di estrazione del gas davanti alla costa pesarese vengono ritenuti piccoli da chi ha operato nel settore e forse per questa ragione che si andranno ad eseguire trivelazioni al fine di potenziare la capacità di estrazione tornando sui volumi di oltre una decina di anni fa. Tra l'altro le acque, quelle di Pesaro, così come quelle davanti a Ravenna e Dancuna, dotate anche di una centrale di raccolta e trattamento che è alla periferia di Fano. Un centro che si estende in un'area di 39.000 metri quadri attraverso le tubazioni in mare. Tutto il gas, in totale 51 posti, viene convogliato in questa centrale. Quindi una centrale di particolare importanza davanti alla costa fanese. E quindi non solo le centrali elettriche di Terna a Carrara ma anche le centrali del gas dove arrivano tutti i tubi da tutte le parti davanti alla costa fanese. Ma questa è l'economia moderna. Di chi è il cantiere Rossini? Proprietà in Linkenstein. Inchieste internazionali a questo proposito indicano delle società russe. L'Alexander Yacht, un yacht di 47 metri, color sabbia, costruito ai cantieri Isa di Ancona, per anni era all'Ancora nel cantiere di Pesaro. Ebbene, questo yacht è finito al centro di un'inchiesta giornalistica dell'Espresso. Lo yacht ha lasciato Pesaro due giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. e sembra che sia andato nel Montenegro e poi ancora in qualche porto della Turchia. Secondo il settimanale, appunto l'Espresso, dietro a questo yacht, il cui valore commerciale sarebbe di 7 milioni di euro, ci sarebbero gli uomini di Putin e le società farebbero anche riferimento alla Gazprom. Si fanno collegamenti con il braccio destro di Putin, Alexei Miller. Insomma, un'inchiesta che vuole sondare effettivamente tutta la storia di questo yacht che è stato un'imbarcazione fissa nel porto di Pesaro. Capitale della cultura, Pesaro sfrutta questo emblema, questo riferimento. Capitale della cultura, una vetrina al BIT di Milano. Ed è pronta un'estate di concerti. Ricci è andato a Milano, il sindaco, per raccontare la vittoria. Ebbene, c'è anche un aspetto aggiuntivo per quanto riguarda questa promozione. A Pesaro ci sarà anche l'Ulisse Feste. In arrivo Goran Bregovic, Africa Unite, e Max Casacci e Telmo Pievani. Ebbene, si tratta della quinta edizione dell'Ulisso Feste, il festival firmato dalla Nonnel in Planet, che ha scelto Pesaro per quanto riguarda il palcoscenico naturale, che si svolgerà dal 15 al 17 luglio prossimo, per raccontare le bellezze del territorio, ma anche per portare artisti, come abbiamo detto, Bregovic, Africa Unite, Max Casacci e Telmo Pievani, con Ertfonia, che canteranno in piazza gratuitamente. Quindi una iniziativa, una manifestazione, un evento in più per festeggiare questo grande risultato che Pesaro ha ottenuto. Apre a Muraglia il Trial Park, quando la bici è gioia. E la bicicletta diventa sempre più un mezzo di attrazione turistica, perché permette di conoscere in particolare tutti gli aspetti più belli del territorio, quelli che magari viaggiando in treno, in macchina, non si notano, perché appunto si va veloci. Inaugurato il Trial Park Calamita nel quartiere di Muraglia, tra via Petrarca, via Riosto e piazza Alfieri. Ridiamo vita a questo luogo, che è sempre stato uno spazio di socialità e di aggregazione, ha detto l'assessore Mila della Dora. E lo facciamo con un impianto dedicato alla bicicletta e allo sport, 100% green, anche quindi un aspetto ambientale per quanto riguarda questa iniziativa. E vediamo qui tre iniziative su una posizione di spalla del resto del Carlino. Inaugurato il rifugio del Furlo, taglio del nastro ieri per il nuovo rifugio del Furlo, sul monte Pietralata, otto posti letto, un ristoro e una natura pressoché incontaminata, veramente un luogo da apprezzare, da passare le vacanze. E poi falsi green pass oggi gli interrogatori. Sono previsti per oggi gli interrogatori dei 10 di 27 indagati per l'indagine di Rimini. Abbiamo visto come anche nel nostro territorio si rilasciavano green pass falsi dietro pagamenti. E poi dobbiamo riferirvi anche di un lutto. È morto, è morto, Mauro Giovannini, 49 anni, di ginestreto, era sposato con un figlio. Il destino gli aveva cambiato la vita nel 2006, quando ebbe un incidente con la sua moto, rimanendo paralizzato, ha reagito, riprendendo il lavoro e la sua autonomia. Poi l'infarto lo ha stroncato l'altra notte. Ebbene, a questo punto le notizie locali per quanto riguarda la nostra provincia finiscono qui sul resto del Carlino e quindi apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Vediamo che si apre con una notizia di carattere sociale. Emergenza abitativa per i più fragili aglienti del terzo settore, 12 alloggi. Sono 12 dei 64 alloggi che sono stati realizzati nell'housing sociale di Gimarra. C'è stata una convenzione sottoscritta a questo proposito dall'amministrazione comunale con il fondo CIVES nel 2019 ed ora c'è un'integrazione a questa convenzione perché si permette di cedere in uso questi locali in affitto oppure addirittura in vendita agli enti del terzo settore senza dargli direttamente soltanto ai soggetti che poi resterebbero un po' esposti perché non avrebbero più l'assistenza di coloro che dovrebbero seguirli vita natural durante. Ebbene, questa convenzione permette agli enti del terzo settore non soltanto di ricevere in affitto o in compravendita gli alloggi ma anche di mettere delle persone che possono assistere le persone fragili anche nel dopo di noi ma tanto anche nel percorso del durante di noi per aiutarli ad avere una certa autonomia housing sociale a Gimarra integrazione alla convenzione del 2019 già consegnati quattro appartamenti che poi sono stati accorpati in due appartamenti ebbene lo stesso argomento viene ripreso a Mondavio e terre roveresche l'ambito 6 ha definito i piani da finanziare con i fondi del PNRR l'ambito 6 ha definito la progettualità con questi fondi destinati al sociale ne sono state scelte 5 illustrate nella sala consigliare di San Giorgio di Pesaro nei giorni scorsi la prima per percorsi di autonomia rivolti a persone con disabilità e il possibile finanziamento di 715 mila euro insomma delle iniziative di carattere sociale che cercano appunto di sostenere sempre di più in maniera più efficace le persone che non sono autonome e poi ieri si è svolta una bellissima iniziativa alla cooperativa Tre Ponti Tre Ponti chiama l'Ucraina si presentano erano circa 80 persone invitate se ne presentano non invitate preventivate diciamo meglio se ne presentano 160 ebbene ma la cooperativa Tre Ponti con tutte le sue risorse è riuscita a far fronte a questa grande e calorosa accoglienza applausi per l'iniziativa della cooperativa donati 7.800 euro tratti dalle tombole che sono state organizzate nei giorni precedenti e poi distribuiti uova e colombe alle famiglie e ai bambini in cui vediamo un gruppo degli ucraini che hanno partecipato al pranzo pasquale che si è svolto ieri appunto alla cooperativa Tre Ponti voluto in maniera determinata dal suo presidente Gino Bartolucci e qua vediamo la consegna delle uova era stato previsto l'arrivo di una tantina di persone ma alla fine ne sono arrivate il doppio 160 profughi provenienti dall'Ucraina ospiti nel nostro territorio da famiglie istituzioni parenti amici che ieri hanno partecipato appunto a questa bella iniziativa e poi non può mancare il cordoglio della città per una scomparsa improvvisa quella di Roberto Cascioli Roberto Cascioli era un semplice ciclista un meccanico riparatore di biciclette in realtà era molto molto di più era una persona una persona dal cuore d'oro una persona che aveva la solidarietà dentro l'animo e per questo era apprezzato da tutti anche per il suo carattere così immediato così estroverso così pronto a criticare quando c'era bisogno di criticare ma di amare quando c'era bisogno di amare la città sotto shock per Cascioli oggi il funerale a San Cristoforo si celebrerà appunto alle ore 15 nella chiesa di San Cristoforo e credo che molta molta città sarà presente a questo rito funebri vediamo ancora quest'articolo che riguarda Fano a fondo pagina DRF il talento è qui arriva la Coppa Italia droni il gruppo fanese del presidente Penserini organizzerà l'evento progredisce dunque a vista d'occhio il movimento sportivo collegato alle gare con i droni e nella crescita di interesse verso questa disciplina attualissima che richiede riflessi da pilota di Formula 1 perché veramente i droni vanno ad una velocità fantastica sembrano veramente dei calabroni oppure di quegli uccelli che vanno velocissimi e vanno a zigzag riescono a superare e a deviare tutti gli ostacoli che incontrano nel loro percorso occorre molto riflessi molta prestanza per quanto riguarda le iniziative di guida di questi apparecchi dunque una bella iniziativa che diffonde un nuovo sport un nuovo gioco passiamo a Mondolfo vediamo come il Comitato per la salute chiede che venga attivata la telemedicina appunto nel comune questo per risolvere il disagio delle guardie mediche senza personale e il Comitato propone di realizzare nella casa della comunità un centro sperimentale di sanità digitale proposte che speriamo vengano accolte e anche in questa pagina si parla della inaugurazione del nuovo rifugio del Furlo e guarda caso nasce anche in questa giornata un aquilotto reale è il figlio di una coppia di aquile che è stabile nella zona del Furlo grazie all'assetto ambientale ancora incontaminato di questo meraviglioso paesaggio figlio di una coppia che vive nella riserva doppia festa dunque sul monte Pietralata nella giornata di ieri e veniamo anche a Senigallia altro buco nero sul lungomare è l'ex hotel Marche che è un rottame ed è stato anche vandalizzato questa struttura ricettiva vetrata in frantumi e sospetti di blizze dei balordi dopo le eruzioni degli omeles Alexe Yat una vetrina trovata rotta ieri mattina appunto in questo albergo sull'ingresso delle lungomare Marconi mentre sul retro sabato gli operai hanno chiuso un buco creato nei pannelli che circondano l'edificio ovviamente segni di effrazione segni di coloro che magari senza tetto sono entrati all'interno oppure in cerca di qualcosa da portare via da rubare e veniamo anche per quanto riguarda Pesaro quello che dice il Corriere Adriatico anzi prima di tutto voglio così farvi vedere una notizia di carattere regionale siamo ad Ancona in consiglio regionale ma l'iniziativa riguarda riguarda anche la nostra provincia in modo particolare si parla infatti dell'arretramento della ferrovia bisogna mobilitarsi interessando coinvolgendo soprattutto i nostri parlamentari appunto che possono dire la loro nella Camera dei Deputati e nel Senato Romano per l'arretramento bisogna mobilitarsi ad iniziare da Roma lo hanno chiesto la consigliera regionale Marta Ruggeri e il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle nel Comune di Fano Tommaso Mazzanti sono intervenuti sulla ferrovia chiamando in causa i parlamentari occorre reperire ulteriori risorse per un progetto complessivo sulla costa hanno detto e l'arretramento della ferrovia adriatica scalda in questi giorni la politica regionale e vengono chiamati in causa i 24 parlamentari marchigiani di cui 10 appartenenti al Movimento 5 Stelle e sono gli stessi componenti del Movimento 5 Stelle che chiamano in causa i loro colleghi perché appunto questa questione venga definita venga definita nell'interesse di tutti i comuni delle Marche non solo di uno magari a scapito degli altri e poi si parla delle eccellenze delle Marche alla conquista del Vin Italy dopo due anni di stop l'avvio è stato veramente incoraggiante stand aperti fino a mercoledì Michele Bernetti della Umani Ronchi è il nuovo presidente del consorzio IMT che certifica insomma l'origine locale di questi prodotti che sono veramente delle risorse di carattere no gastronomico che poi coinvolgono tanti effetti producono effetti nell'economia producono effetti nelle presenze turistiche insomma sono veramente degli ambasciatori della bellezza e della bontà del nostro territorio e poi qui si parla dell'ennesimo contrasto tra bagnini e albergatori per quanto riguarda la riserva di alcuni ombrelloni in spiaggia a favore dei clienti degli alberghi bagnini e albergatori il braccio di ferro è sotto gli ombrelloni occorre un protocollo per fissare le regole sugli spazi nelle spiagge e per i clienti degli hotel Costantini dobbiamo trovare un'intesa l'obiettivo è quello di promuovere il turismo e intervengono in questo argomento il presidente dell'APA Paolo Costantini appunto porteremo a casa il patto sono ottimista anche se ci sono alcune resistenze ha dichiarato mentre il tour operator Vincenzo Ricci che è una vita che si dedica appunto alla promozione della ricettività provinciale terza età e handicap non piacciono ai balneari nemmeno in bassa stagione insomma ha criticato un po' il settore dei concessionari di spiaggia e poi l'albergatore Fabrizio Oliva per noi gestori di hotel la priorità è l'intervento alle scogliere di Levante e ha suscitato un altro problema Pasqua non fa stagione ma l'esordio è positivo natura storia gastronomia e marketing fanno un sistema nell'entroterra tornano a prenotare olandesi e tedeschi e qui vediamo una bella immagine di Urbania e del suo castello del suo palazzo ducale sulle rive del Metavolo insomma veramente una località da valorizzare e da scoprire sempre più e vediamo anche un ritorno per quanto riguarda la maxi antenna contestata a Soria al quartiere pesarese ma c'è un margine per stoppare il progetto sembra che lo dica l'assessore della Dora che ha riunito i tecnici per studiare la documentazione e le associazioni ambientaliste rilevano lo status di area protetta di Baia Flaminia quindi non ci dovrebbero essere standi vincoli non ci dovrebbe essere la possibilità di erigere questa maxi antenna che viene contestata e poi si parla del cavallo del Catria di Chiaserna insomma questa località da far west nel nostro territorio che sfila alla palla di Pomodoro festa per il battesimo della sella tanti ad ammirare due magnifici esemplari di cavallo appunto e per i piccoli il debutto in groppa e da Pesaro capitale italiana della cultura che parte la campagna promozionale di Cantiano Fiera un'iniziativa che vi invito ad andare a visitare perché veramente c'è la possibilità di scoprire il territorio e ancora siamo ormai in conclusione l'Avis riparte a Vallefoglia da Emma Dionigi neppure il Covid ci ha affermato ha dichiarato e nelle 2025 l'associazione Montechiese compie 50 anni la presidente i giovani sono sempre più coinvolti ad Urbino invece si parla diciamo meglio a Fermignano la pagina quella di Urbino si parla della parete rocciosa sulla Flaminia fateci capire cantiere e tempi lo richiedono Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri che rappresentano in regione la Lega tutto chiuso da oltre un anno basta ritardi buttate giù questa parete che è pericolosa e riaprite la strada sulla Flaminia è quello che chiedono i due consiglieri regionali e veniamo anche allo sport prima di chiudere vediamo come i pareggi che hanno contraddistinto le gare disputate dalla Visse e dal Fano Calcio vengono considerati risultati positivi Vispesaro di lotta e di rimonta ma quei primi tempi fanno pensare ha dichiarato appunto il suo trainer il suo allenatore e per quanto riguarda invece Fano vediamo che Fano rungisce e proprio allo scadere del tempo rimedia ad un gol che aveva subito su rigore con il Pineto il risultato è uno a uno punti preziosi per la salvezza e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20 e 30 di questa sera con Occhio alla Notizia su Fano TV bene a risentirci grazie Grazie a tutti.